Eccoci tornati con la pagina sportiva, parliamo di Serie D e del Givi Borgo che dunque ripartirà da Pacifico Fanani. Il Givi Borgo 2018-2019 ha chiuso al settimo posto con 60 punti. Ultima partita lo scorso 5 maggio, 2-2 contro il Gavorrano allo stadio delle Terme di Bagni di Lucca di cui rivediamo alcune fasi. Il Givi Borgo, prima di Guido Pagliuca e poi negli ultimi due mesi affidata a Paolo Poli, è squadra che ha fatto sognare almeno fino a febbraio, quando si è trovata per diverse settimane in cima alla classifica in modo francamente anche inaspettato. Il Givi Borgo sa di aver disputato un'ottima stagione, ancorché caratterizzata da momenti esaltanti e da altri di acclarata difficoltà. Ora però i dirigenti della squadra bianco-rosso-azzurra sanno che è giunto il momento di voltare pagina. E il volto nuovo che finisce sulla copertina dell'estate del Givi è senza dubbio quello di Pacifico Fanani. Si tratta di un piacevole e gradito ritorno, quello del Pacio, che forse non è mandato del tutto via. L'esperienza di Eliana lo ha senza dubbio arricchito, è temprato e lo fa tornare in Valle del Serchio ancora più solido ed esperto. Del resto, nel momento stesso in cui la società ha pensato di dover cambiare tecnico, il primo pensiero è andato al 47enne ex calciatore bandiera del Castelnuovo. Fanani bis, quindi sulla panchina del Givi Borgo, l'annuncio già nei prossimi giorni, cui seguirà anche la presentazione ufficiale. Da capire invece che tipo di squadra vorrà costruire il Pacio, per quanto sappiamo, rivoluzione ma non troppo. Probabile infatti che qualche elemento di esperienza possa rimanere, uno su tutti Elia Chianese, che dovrebbe guidare anche una squadra del settore giovanile. Incerto anche il futuro del bomber Ortolini, che si è stabilito a Viareggio e che è assiduamente corteggiato dal neopromosso ma ambizioso Grosseto. Di certo il Givi Borgo partirà con l'obiettivo di una salvezza tranquilla, poi strada facendo. Domenica di playoff in Serie C, vediamo il quadro completo del tabellone tra parentesi, risultati delle partite di andata. Domenica sera alle 20.30 si giocheranno Piacenza e Molese, Trapani, Catania, Triestina, Feralpi, Salò e Pisarezzo. A quel punto conosceremo le due finaliste perché sono due i posti per la Serie B. Giuseppe Piazza, coach del centro minibasket Genova Lucca, sarà assistant coach della nazionale Under 18 femminile ai tornei internazionali che si svolgeranno a Pesaro dal 15 al 30 giugno e a Roma dal 1 al 3 luglio. Una bella conferma per il tecnico lucchese che ricordiamo nei prossimi giorni incontrerà i dirigenti del centro minibasket per decidere sul suo futuro. Potrebbe diventare realtà il sogno di una giovane regbista lucchese, Irene Campogiani, atleta del rugby femminile Le Duchesse, come amano chiamarsi, che è stata inserita nella lista delle giocatrici di interesse nazionale che andranno a far parte della nascente nazionale femminile Under 20. Irene ha superato brillantemente la prima selezione e giovedì prossimo dovrà recarsi a Bologna per la seconda selezione. Parliamo di ciclismo perché Lucca, i cicloamatori lucchesi e in generale della nostra provincia, il prossimo 16 giugno renderanno omaggio, crediamo, al più grande di sempre, almeno in Italia, Fausto Coppi. Lunedì prossimo 3 giugno si apriranno presso Ciclipoli in Piazza Santa Maria l'escrizione alla Gran Fondo Cicloturistico Omaggio di Lucca a Fausto Coppi, organizzata dal pedale lucchese Poli. C'è grande attesa tra gli appassionati per un'iniziativa unica nel suo genere che porterà i partecipanti a raggiungere il paese natale di Fausto Coppi nel centenario della nascita del Campionissimo. La manifestazione prenderà il Via da Lucca domenica 16 giugno alle 6.30 e terminerà dopo 255 chilometri a Castellania davanti al monumento che ricorda il celebre Airone. Non è la prima volta che il pedale lucchese Poli organizza una manifestazione con tali caratteristiche, ma il fatto che si svolga ad un secolo esatto dalla nascita di Coppi, 15 settembre 1919, assume un significato particolare. Noi partiremo con al seguito un pulma, un pulmini, cambio ruota, ambulanza, col medico e tutto. Faremo due rifornimenti, uno nella discesa del Bracco e uno nella discesa della Scoffera. Le spese sono tante. Fortunatamente abbiamo trovato chi ci ha dato una mano, come il Comune di Lucca, come la fondazione della Banca del Monte di Lucca, come la stessa Bianchi Biciclette. Ci hanno dato una mano che ci permettono di arrivare in fondo. Il percorso prevede l'attraversamento di ben cinque province e tre regioni, con l'asperità dei passi Bracco e Scoffera prima della salita finale che porterà i partecipanti sulla collina di Castellania. L'andatura sarà controllata intorno ai 27-28 km orari, lasciando ai partecipanti libertà di accelerare soltanto sulle due salite, mentre l'arrivo dei partecipanti avverrà tutti assieme intorno alle 17. Al mausoleo, dove riposano Fausto Coppi e il fratello Cerse, sarà deposto un mazzo di fiori sulla tomba di Cerse, che 70 anni fa vinse proprio a Lucca una delle poche gare della sua breve e drammatica carriera. Due rifornimenti con sosta, Sestri Levante e Abusalla, al termine della discesa, per far sì che i partecipanti possano raggrupparsi e ripartire poi assieme. L'apporto del Comune di Lucca e della Fondazione Banca del Monte di Lucca è stato fondamentale per l'allestimento della manifestazione che prevede il ritorno in pullman per i concorrenti e anche per coloro che vorranno seguirli. Una bella notizia che riaccende le speranze per un prossimo esordio di una giovane pugile lucchese in maglia azzurra. La seconda convocazione in ritiro collegiale della School Girl Miria Rossetti Busa ad Assisi, accompagnata dal maestro Giulio Monsele, san fa infatti ben sperare. La giovanissima atleta della pugilistica lucchese potrebbe rientrare infatti nella lista delle partecipanti ai prossimi impegni della squadra femminile che culmineranno con i campionati europei School Girl di fine luglio in Georgia. Chiudiamo con i motori. Andrea Simonetti è il nuovo leader del premio Rally Automobile Club Lucca. Il pilota lucchese ha archiviato rally della Val di Nievole in undicesima posizione assoluta e sul secondo gradino del podio di classe R3C con la sua Renault Clio. Tre copiloti a rivestire i panni di capofila e Michael Salotti. È tutto per quanto riguarda la pagina sportiva. Una breve pausa e poi torniamo con la terza ed ultima parte del TG Noi.